Quale utensile da cucina vorresti essere? Vorrei essere una frusta, sbattere tutte quelle uove, montare tutta quella panna. Duetto con Achille, Lauro o con Pupo? Sicuramente con Pupo che ha dichiarato 20 anni dopo di non sapere che in gelato al cioccolato dolce un po' salato c'era un vago doppio senso. Cantaci una canzone trap? Trap. Serie TV preferita? Six Feet Under. Quanto è Gaia la papaya? Dovremmo stabilire l'unità di misura della gaiezza della papaya, però direi 350 gaioni. Puoi rubare un attributo fisico a Roberto Bolle? La capienza del culo. Fai il culo. Categoria preferita sui porn? Ne ho amate tante e il bello sta nel cambiare ultimamente e devo dire che sono molto affazionato all'amatoriale. Un insegnamento che hai appreso guardando Sailor. Allora, premesso, i cavalieri dello zodiaco mi hanno insegnato i valori più alti della società umana, il senso dell'onore e mi hanno fatto sospettare di essere gay. Sailor Moon mi ha insegnato che non si può combattere il male senza prima essersi messi lo smalto, una minigonna equinale e un tacco di 12 centimetri. Lì ho avuto la certezza di essere gay. Un'imitazione che ti riesce bene. Cioè, vuoi che io faccia un'imitazione? Accidenti. Bambola, Valeria Marini, la prima volta in cui viene violata analmente. Mi stai facendo paura. Elenca le sette meraviglie del mondo odierno. Netflix, la PlayStation, i giochi da tavolo, il Golden Gate Bridge, Piero Angela, le benzo di Azzepine, dei Lady, di Lori del Santo. Hai dieci secondi per fare un appello al pubblico omofobo. Ok, dieci secondi per convincere un omofobo a non essere un omofobo. Le ragioni le sa già, perché un omofobo sa di essere dalla parte sbagliata della storia, ma semplicemente non gli interessa. Purtroppo non si può far capire qualcosa a qualcuno che non vuole capire.